e rieccomi qui ragazzuoli sto registrando immediatamente dopo aver chiuso quell'altro perché non posso interrompere stiamo giocando con luigi oh ma che spettacolo ma quanto è bello carte di luigi carte di luigi vorrei sceglierti aggiusto aspettate torniamo qui ecco qua quindi in quest'ultimo gameplay andremo a giocare la coppa arcobaleno sto giocando da pc non più su nintendo wii quindi c'è una maggiore qualità grafica sto giocando più comodo e soprattutto ho potuto sbloccare anche il torneo finale senza dovermi rigiocare in un colpo solo tutte quante le coppe il che è grande come cosa allora pronti a partire giocato così è tutta un'altra cosa su wii non era proprio il massimo e scatticchiava anche un pochino il frame non era ottimale peccato che l'ho scoperto nella fase conclusiva ma non ci importa l'importante è che sono riuscito a portarvi anche l'ultima coppa e siamo sulla pista arcobaleno ragazzi con mario che se mi fa girare gli tiro vieni qua mario ti è no ho preso yoshi che non c'entrava nulla attenzione perché mario ha un guscio ma lo sorpassiamo come non detto mi ha lanciato va bene mario allora vuole guerra aspettami che arrivo questo è per te me la sto conservando apposta per te ecco se gli altri non si mettessero in mezzo via questo non so che cosa serve non lo so l'ho lanciato così tanto per eccoci dai che li abbiamo raggiunti via pacman questo non capisco a cosa serve ma pazienza derapiamo affrontiamo la curva nel migliore dei modi e siamo primi ci sono soltanto due giri ma la pista arcobaleno comunque è bella lunga quindi ok secondo giro abbiamo raccolto soltanto 9 monete vediamo se riesco a recuperarne qualcun'altra lungo il tragitto senza perderle stupidamente vai ok ok ci stiamo allontanando dal resto del gruppo abbiamo preso un bel vantaggio continuando continuando nel frattempo a raccogliere monete ok mi sto godendo la gara senza troppe preoccupazioni c'è mario dietro ma è abbastanza lontano ho preso la banana di pitch opla siamo tranquilli parza occhio alla banana dai che ci siamo poi dopo questo mario kart arcade gp2 ci sono le versioni deluxe che dovrò portare vedrò se riuscirò a far funzionare anche quelle e in un prossimo futuro non subito le porterò nel frattempo siamo arrivati primi anche qui seguiti da mario e pacman e proseguiamo lo so nuovo percorso è stato sbloccato continui certo che sì secondo round della pista arcobaleno se è tutto così posso quasi azzardare a dire che è molto tranquillo poi sarà che sto più comodo anch'io a giocare qui siamo live da Rainbow Downhill senza jump drifting non puoi ammazzare questo corso il più talentato è Luigi che tecniche che vedremo? mi faccio vedere io vi faccio fungo addirittura vai è un bonus che non mi era praticamente mai capitato dovrei provare a restare indietro per vedere se mi da dei bonus più devastanti perché in genere quando siamo in prima seconda posizione non riceviamo dei grandi bonus mentre invece quando siamo in fondo la fila ci dà dei bonus potenti per permetterci di recuperare ma sentire Luigi che urla in questo modo è bellissimo altro turbo grande vai eia altro fungo va bene aspettiamo una zona rettilinea tipo vai anche qui ci sono due giri vai forza fast too fast vai che abbiamo recuperato altre monetine oppla vai vai aia ma sono collato il muro vai altro fungo parza vai dai che ci siamo ultimo set di curve ultimo turbo ultima drapata e via così ma vieni bene bene non ricordo come si chiama quel pupazzetto al secondo posto sicuramente fa parte del mondo nanco yes quanto manca mi sembra un paio di corse ok round 3 penultima corsa quindi tutte stelle forza forza here we are live from rainbow coaster wide lanes make it difficult to block rival carts this broadcast is brought to you by justin berti justin berti mi mancava questo justin berti che non so cosa significa ma vabbè lo dice con una voce molto da mollicone justin berti vai cominciamo a menare tutti ma abbiamo tutti la stessa bacchetta volevo prendere donkey ammazzate ma non ci sono riuscito ora più che altro dobbiamo fare attenzione a non farci prendere noi ammazzate yes ecco appunto come non detto va bene donkey scusa pitch ok donkey aspetta che mi capiti a tiro bang 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 ti faccio vedere io ti faccio vieni qui vieni qui ecco il dolce sapore della vendetta e abbiamo fatto fatto male pure a yoshi bing 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 forza questa me la conservo opla donkey ha colpito qualcuno ok anche qui ho preso un discreto stacco e siamo al giro finale bolicki is banging away bing 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 si chiama amici non so se è quel pupazzo che abbiamo visto è l'unico nome che non conosco bing baing bing 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 lebbrezza tucci dai c i bing bing Dai così Peccato che non c'è il classico tema Della pista arcobaleno Sarebbe stato piacevole sentirlo In questa chiave Pazienza ragazzi Really fast Vai Ormai ragazzi Siamo sulla cresta dell'onda In testa seguiti da Yoshi E Donkey Kong Continuiamo in perterriti Manca soltanto Una corsa mi sembra Fatemi vedere Si Yes Round 4 Corsa finale di Mario Kart Arcade GP2 Mazza quanto è lungo sto gioco Ci metto un quarto d'ora solo a di il nome Ma ci siamo Cerchiamo di vincere Così chiudiamo in bellezza Luigi Che caldo Vai Ormai siamo Dei maestri Di Mario Kart Arcade GP Uno scudo Ok con questo dovremmo Proteggerci dagli attacchi Avrei preferito un turbo ma Via Yoshi sta picchiando Yoshi sta picchiando Bangi Peach Non ti penso proprio Vieni qui Vieni qui Peach Dobbiamo col tornato Dobbiamo mirare Presa L'abbiamo stordita la grande Opla Scudo Ok Non è che ci faccia granché ma Invece forse è stata una buona cosa Perché Blinky aveva la bacchetta Dai Altro tornato Ecco Yoshi Vediamo se riusciamo Eh niente Attenzione che Yoshi ha il pesce Assassino Ok no Non ce l'ha lanciato Non ancora perlomeno Noi Usiamo il nostro scudo E concludiamo Il primo giro Luigi Is it possible To maintain the lead Un lucchetto Che fa Forse lo avremmo scoperto Se lo lanciavo addosso A qualche avversario Beh pazienza Avanti Yoshi Bang 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 Si stanno ammazzando di botte In pratica Siamo lo scudo Così se qualcuno ci lancia qualcosa Siamo tranquilli E là Mamma mia che salto Altro tornato Eh No Ho sprecato il tornato Ma Attenzione al pesce Mamma mia l'ho vista All'ultimo secondo Dai che ci siamo Siamo velocissimi Siamo Item shot Un altro Non ci faccio un tubo Ok ragazzuoli È andata The winner is Luigi Massive The winner is Luigi Grande E vinciamo la coppa finale Di Mario Kart Arcade GP2 Devo prendere fiato Quando pronuncio il nome E vinciamo L'ultima coppa Ragazzi Qui risulta Che ne abbiamo preso Soltanto due Ma in realtà Le abbiamo giocate Tutte quante Nei vari Gameplay precedenti Ok Vediamo cosa è questa sfida Ah Dobbiamo combattere contro Robo Mario Come si chiama Ma si Pico Attento ai missili Che ti lancia Pronti ragazzi Per l'ultima sfida Dunque Cerchiamo Oh L'anima Ascia tua Disgraziato Maledetto Quindi Quando gli siamo Davanti Ci lancia i missili Quando gli siamo Dietro Ci lancia le banane Mi sembra giusto Facciamo attenzione Lui prende le curve Molto larghe Quindi cerchiamo Di farle più strette Di lui Non so quanto sarà Lungo questo circuito Non so quanti giri ci saranno Ma penso uno Dai che lo stiamo riprendendo Pussa via Ok Possiamo difenderci Usando i mini turbo Oh mamma Eh che cavolo però Dai Dammi Modo di difendermi Anche a me No Mi sa che non ce l'abbiamo fatta Peccato perché L'avevamo ripreso Se la pista fosse Un po' più lunga Aspettate un po' Che forse Mamma mia Dai Continuo a lanciarci roba E dai Supero Non è valido ragazzi Non è valido Mi ha riempito di oggetti Vigliacco Raccomandato Vabbè Pazienza Ora che succede? Basta no? Finisce in una schermata nera? No Titolo di coda Va bene ragazzi Concludo qui Questa serie di Mario Kart Arcade GP2 E spero vi sia piaciuta Io sono stato contento Di avervela portata Sia su Wii Che in conclusione Questi ultimi due episodi Emulata Su PC Con l'emulatore Il Dolphin E spero Siccome ci sono anche Le versioni deluxe Di riuscire a portare Anche quelle Più avanti Chiusa questa serie Mi concentrerò Sulle altre Dunque Ora sto finendo di giocare Stray Ho finito Mario Party 3 Ma non so se giocherò Anche la modalità avventura Sto giocando la mattina Donkey Kong 94 Che sembra vi stia piacendo Però pian piano Stiamo smaltendo Le varie serie E a breve ne comincerò Una di nuovo Una di quelle principali Ancora non ho deciso Con quale gioco Però staremo a vedere Io penso di poter Chiudere qui direttamente Senza mostrarvi Tutti quanti No sono finiti I titoli di coda Continua Vediamo che succede Ok ci fa semplicemente Ricominciare Va bene ragazzi Chiudo qui Mi raccomando Lasciatemi un like Iscrivetevi al canale E commentatemi Per farmi sapere Cosa ne pensate E io Chiudo qui questa serie Ci vediamo la prossima volta Con le nuove serie Abbraccio a tutti ragazzuoli Ciao